ma perché hai fatto passare pro gamer le macchine le dobbiamo parcheggiare noi però però bene non hai capito niente no scendi però scendi scendi che ti spacco tutti i vetri in tempo zero apri la macchina grande che cos'è ma seriamente ma picchiolo ma dai ma che scena ma non ci credo cioè ci va picchiolo picchiolo guardate raga guardate due doctor alla regola è sempre la stessa devono grande grande parcheggiato foto foto aspetta fermo fermo che ti faccio la foto che si ha indaffarato con la scuola lo posso parlare se ne sbaglio no no è trovato c'è solo la librea raga mi serve una sfidata ma qua ma è passato del gioco no no raga raga già sono incassato oh no no Grazie.